Allora ragazzi questo è un video importante, molto importante, perché adesso in un momento di scoppiamento totale vi insegno tre regole d'oro per essere felici, cioè tre regole per la felicità e queste regole valgono per tutti, ricchi, poveri, bianchi, gialli, verdi, rossi, calchelet, sentite bene perché questo è un video molto importante. Allora io so che già qualche d'uno arriverà dicendo e però anch'io l'ambre sto facendo così, balle, balle, perché per essere felici, per arrivare a questo punto, per essere sereni, devi adottare delle regole ferre, io ho questo metodo Shaolin, questo metodo Zen, io quando faccio una cosa ragazzi sono come un, sono sovietico su queste cose, sono russofono, non sono all'italiana, l'italiana è oggi sei amico, domani no, ma ci, ma là, chiacchierare, metodo italiano, capito? Tutto un parlarsi dietro uno qua, no, io quando faccio delle cose esce il mio istinto russofono e quindi quando faccio delle cose, oh, l'istinto diciamo alla Shaolin, saluto anche il mio amico il Monaco. Allora, io mi sono reso conto, ragazzi, che così non andava bene e allora ho deciso, no, perché, perché, ho deciso che io in questo momento, ragazzi, sono qua sul laghetto, anzi sul fiume, sul fiume Adda, e che poi amo questo periodo io, io lo amo perché non c'è in giro nessuno, anche questa arietta bella freschicciola mi piace, mi piace sentire proprio, proprio, un po' ti devi coprire perché se no te c'è appena il fregiù, però, però ragazzi, io lo amo, non c'è in giro nessuno, mamma mia, il periodo a me è ottobre, inverno, sono le stagioni che io preferisco, l'inverno lo preferisco, proprio, io non capisco come si faccio in questo momento a stare a, come quelli che stanno le Canarie a 23-25 gradi, proprio, impazzirei, sì, una volta, vai giù una settimanina e basta, ma io, io, io inverno lo voglio sentire sulla pelle, però, a parte questo, a parte questo, poi, guarda che bello qua, cioè, già qui sei felice, guarda che felicità, e il fiume, e le paperelle, e compagnia aria, allora, ragazzi, io mi sono reso conto che se tu vai in giro ci sono dei livelli che la gente è scoppiata, faccio il giro del fumo, già il mese di ottobre mi ero, mi ero, mi ero un po', diciamo, rifugiato nei boschi, a me piace andare a funghi, già andare nel boschi stavo benissimo, ragazzi, qua sto ancora benissimo, speriamo di non incontrare nessuno, allora, io ho fatto questo metodo, che anche altri hanno detto di averlo fatto, ma non è vero, non è vero, non è vero, non è assolutamente vero, perché io l'ho fatto veramente, non a chiacchiere, io ho deciso di eliminare completamente televisione, quindi io praticamente da marzo non guardo più niente, canali italiani non li guardo minimamente, guardo ogni tanto il telegiornale russo, ogni tanto, ultimamente più neanche quello sto guardando, però diciamo ogni tanto guardo quello, però ho completamente eliminato la televisione, ho completamente eliminato la radio, perché intanto è sempre più o meno la stessa cosa, perché anche nella radio parla sempre della stessa argomento, e soprattutto ho eliminato tutta quella serie di siti, diciamo, chiamiamoli di giornali, che poi i proprietari sono sempre gli stessi anche della televisione, tutti i vari siti che la gente va a vedere, no adesso vado a vedere cosa è scritto lì, ho eliminato tutto, tutto, proprio eliminato, e sono completamente staccato dalla realtà che succede, mi rendo conto che in questo momento penso, presumo ci sia un martellamento H24, lo capisco quando incontro ogni tanto qualcuno, perché ti rendi conto che la gente non ci sta più dentro, non ci stanno proprio più dentro, quindi ho fatto questo, molti dicono, ma all'ambre, l'ho fatto anch'io, no, perché io sono russofono in questa maniera, non sono come quelli che oggi qui domani là, no, io ho fatto un metodo proprio zen, io non è che dico no, e poi magari capita che, che ne so, arrivo a casa e dico, vabbè dai però guardiamo 5 minuti, guardiamo 10 minuti, però hanno detto questo, no a me non me ne frega niente, perché poi ci sono quelli sul web, però hanno visto cannute, no, no, io sono tassionomico, sono strong su queste cose, strong, strong, io ho eliminato tutto, 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 io non salgo, non accendo la radio, non me ne frega un cazzo, ho eliminato tutto, tutto, a parte che secondo me, tanti ormai non la guardano più, è vero, molti, ormai i loro ascolti sono veramente ridicoli e tanti l'hanno fatto come me, però ogni tanto, ma sì, diamo un'occhiatina dai, no, io no, io sono completamente staccato e so qualcosa, perché poi, allora, messaggi su Facebook praticamente io non li guardo mai, se posto qualcosa non lo guardo, guardo qualcosa se mi scrivono, perché ragazzi allora, io gode fa, cioè, allora, lavoro, quando esco mi sono preso anche l'impegno di portare un po' di pacchi, di aiuti, quindi già lì sono impegnato anche in quello, ok, quindi non ho tempo, alla sera magari ascolto un po' di musica, faccio un po' di esercizi, quello che è, però io non ho tempo di vedere, di seguire, cioè io non ho la fortuna che hanno certi di non fare un cazzo, di poter stare lì, guardare, commentare, scrivere, allora, ho deciso su YouTube di fare una pulizia, quindi via troll, trollini, quelli fuori dalle balle che mi hanno rotto le scatole e ho dovuto anche purtroppo prendere una decisione, visto che comunque c'erano delle situazioni di video pieni di commenti, di insulti, mi hanno rotto le palle, fuori dai coglioni tutti, ok, risetto tutto da zero, chi scrive cazzate lo elimino, ok, non critiche, cazzate, insulti, ok, però da questo punto di vista, a parte non me ne frega un cazzo, allora dico, io ho deciso di fare questo, va bene, allora, il fatto di aver fatto questo, io sono rilassato, perché non so, cioè proprio sono felice, perché io non so niente, se io so qualcosa è perché capita che ogni tanto magari vedo postato qualcosa su qualche pagina di qualche amico che magari ha scritto hanno fatto la zona verde, gialla, non so neanche che cosa hanno fatto onestamente, e per esempio, io in questo momento non so niente, io non so neanche se qui siamo verdi, rossi, gialli, se l'han tolta, non l'han tolta, cioè guarda che si formano gli uccelli da di dietro, guarda che roba lo stormo, perché vi faccio vedere, guarda come tutti insieme, guardalo, guardalo lì sopra, guardalo, guarda come si muovono tutti, questo qua, guarda, li rivedete? Vedete quella macchia nera lì? Sono tutti uccelli che si stanno muovendo, guarda come si spostano, poi si spostano di là, tutti insieme, guarda come cavolo fanno, lo sanno solo, bellissimo, guarda, si spostano di lì, poi vanno tutti di là, si radunano e poi vanno a dormire da qualche parte, bellissimo, guarda come si spostano insieme, vabbè, allora, io in questo momento non so nulla, non guardando televisione, radio, soprattutto non aprendo, mamma mia, siti, siti di quelli di giornale, non so niente, ok, so a livello mondiale, perché ho i miei informatori, ho amici, adesso poi voglio coinvolgere, ve lo spiegherò anche un'altra situazione, che mi mandano notizie un po' da certi posti, ma io quello, ma io quello, quello che succede in Italia, non so niente, non so niente, ciao, 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 non so niente e né mi interessa, non so nulla, non so nulla, cioè oggi è successo, boh, è deragliato un treno, non lo so, se non me lo dite voi, non lo so, non lo so, non so niente, niente, penso che non sappiamo manco che c'era il campionato di calcio, l'ho saputo perché l'ho saputo perché ho letto un commento sotto di uno e pensavo che non esisteva neanche più il campionato di calcio, ha vinto quella, chi vince, chi perde, chi è primo, chi è secco, non me ne frega un cazzo, non mi interessa nulla, sono completamente staccato, anche perché è un martellamento, ormai se tu accendi televisione, radio, giornali, è un martellamento H24, è come la goccia cinese, pam 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 pam, ti mangia la testa, ma non vi rendete conto il livello di scoppiati che c'è in giro, ma per l'amor di Dio, è questo qui, guardate, oddio, sto, guarda, sto di una bontà, ma sto di una serenità, ragazzi, guardate, questo è il primo segreto della felicità, bello, rilassato, non mi interessa niente, non mi interessa nulla, ok? Non guardo televisione italiana, non guardo televisione radio, non accendo assolutamente la radio, che sono detto anche peggio della televisione, e non guardo nessun sito, capita che mi collego, guardo qualcosa a livello di estero, solo per quello, ma per il resto, io in Italia non so neanche cosa succede, quanti sono, quanto ero, basta, basta, e lo faccio, e sono strong, poi, sulla situazione so già che durerà due o tre anni, quando, per esempio, toglieranno che io potrò andare in palestra, per modo di dire, senza mascheriglia, tornerò, tornerò, quando qualcuno mi dirà, oh Lambre, lo sai che adesso si può andare senza mascheriglia, tornerò in palestra, altrimenti faccio la mia bella camminatina, faccio le mie belle flessioni a casa, anzi, vi dico anche che da quando faccio le flessioni, sono anche più strong, anzi, vi consiglio, flessioni, ragazzi, poi vi faccio vedere come bisogna farle, ok, il metodo migliore per la va, bella, e sono bello rilassato, questo è il primo, quindi ho fatto questo, però non venite a dirmi, no, ma Lambre, anche io, non accendo più, non guardo più, non asco, no, perché io lo so già che quando salite in macchina, ascoltate la radio, lo so che ogni tanto date l'occhiata, lo so, io ho fatto una cosa strong, non so niente, adesso so che hanno fatto sta roba gialla, verde, aprono, chiudono, a Natale forse sì, non lo so, non lo so, non so niente, non lo voglio neanche sapere, non lo voglio neanche sapere, poi, seconda cosa, gestione per essere felici, seconda regola, importante, secondo me, è che bisogna sempre vivere la giornata come fosse l'ultima, bisogna sempre vivere un po' la grande, non bisogna dire questa cosa non la faccio, forse la farò domani, orco cane, quasi cado, allora, bisogna stare attenti perché guardo qui dopo, dopo rischia che scarlighe, che scarlighe, che scarlighe, allora, non bisogna dire questa cosa non la faccio, ragazzi, una cosa importante per essere felici, è questa, è questa, che bisogna sempre vivere alla grande, come fosse l'ultima, che è quello il concetto, purtroppo, tante persone pensano di essere immortali, pensano, adesso sembra che c'è solo quello, ma ragazzi, non siamo immortali, non siamo immortali, non siamo immortali, mi tocco, mi tocco, scusate, mi tocco, mi tocco, però ragazzi, bisogna cercare di vivere alla grande, e questo è una cosa fondamentale, è una cosa importante, e poi, l'altra cosa, la terza regola, è che la ricchezza più grande, la ricchezza più grande è il tempo, è il tempo, il tempo la vera ricchezza, perché ragazzi, noi veniamo al mondo, veniamo al mondo, e ci abbiamo otto a tempo, c'è anche destino, purtroppo, chi è stato sfigato, magari anche a Queen's Island, andate là, però ragazzi, prima o poi, prima o poi, arriva la grande mietitrice, arriva, questo è quello che la gente non ha capito, che la grande mietitrice è la ria, alla fine, finiamo tutti al camposento, il tempo è la cosa più importante, e chi ha tempo, non lo deve buttare, chi ha tempo, il tempo, il tempo è fondamentale, per questo che io, perché sono troppo buono, troppo buono, nell'ultimo periodo ho sbagliato, ho sbagliato, perché ho buttato via il mio tempo, l'avrei potuto dedicare a fare una passeggiata, hai capito, però sono troppo buono, purtroppo, però il tempo è fondamentale, non puoi buttare via la tua vita in una stanzetta efebrica, non puoi buttare via la tua vita così, non puoi buttare via la tua vita, passare la vita lì a rimurgire, bisogna uscire, il tempo, dedicare il tempo, se è possibile poter viaggiare, che è la cosa più bella del mondo, ok? Ma soprattutto ragazzi, il tempo è fondamentale, e io impazzisco quando penso alla gente che ha la fortuna di avere il tempo e lo butta nel cesso, ragazzi il tempo è tutto, e quindi per essere felice bisogna avere più tempo libero possibile, ok? Ma soprattutto usarlo bene, usarlo bene, non, dovrei incazzarmi di più però, non passarlo in una stanzetta, dalla mattina, dalla sera, gente che fa 18 profili, 20 profili, commentano, uscite, 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 mi viene da ridere perché penso certe vite, uscite da quel web, uscite da quel mondo, uscite dal tubo, uscite da internet, cioè ve lo dice uno che fa internet, ma sono io il primo a dirvelo, uscite, uscite, il tempo è fondamentale, il tempo è fondamentale, elfo frecce, messo una beretta, messo un paradeguan, messo una zaccavent, messo una sciarpa, ma uscite, uscite perché più che state chiusi, più scoppiate la felicità, è questa ragazzi, questa è la felicità, questa è la felicità, ok, dedicare tempo a se stessi, io le tre regole l'ho detto, vivere come fosse l'ultima giornata, non chiudersi, usare il tempo che è fondamentale e poi staccarsi da tutte queste negatività, ti devi staccare dalla negatività, negatività, accendi la radio, senti negatività, accendi la radio, senti negatività, accendi, guardi i siti, negatività, negatività, negatività ovunque, bisogna eliminare la negatività, le persone negative vanno eliminate, tutto quello che è negativo, le radio, bisogna, se hai a che fare con la negatività, via, via, via la negatività, via la negatività, ci vuole positività, positività, oggi, 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 siamo arrivati a un punto che la gente è talmente abituata alla negatività e alla cattiveria che non solo sono cattive loro ma che sembra allucinante vedere la bontà e per quello che quando magari tu fai vedere che magari sei una brava persona, che comunque aiuti qualcuno in difficoltà, arrivano, no, ma non bisogna farlo vedere, assolutamente, bisogna solo far vedere le azioni negative, la cattiveria, quello sono abituati loro, allo scontro, la cattiveria, la bontà, la bontà non fa più notizia, oddio, no, ma non devi far vedere, perché, perché fai vedere, se fai silenzio, non devi fare vedere nulla, nulla, oddio, 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 c'è una persona che magari chiede aiuto e tu magari la fai vedere, non lo so, come quella famiglia che ho fatto vedere l'ultimo giorno, con la bambina, che è chiaro che se non la fai vedere, chi mai gli offre un lavoro o gli manda magari degli aiuti, se non lo fai vedere, nessuno può vederlo, no, ma perché lo fai vedere, devi fare tutto il silenzio, e come cazzo faccio la gente a mandargli un po' di pacchi, un po' di aiuti, offrirgli un lavoro, cioè per esempio questa famiglia, grazie al fatto che io l'ho reso questa situazione, è purtroppo difficile, nella privacy, perché poi non si vedono neanche in faccia, grazie a questo c'è gente che gli ha mandato pacchi, gli ha mandato aiuti, gli ha mandato la tempolvere, eccetera, eccetera, oltre a quello che io gli ho portato io, tanta roba, però se non lo fai vedere, se non fai vedere questo, se non fai vedere il bene, nessuno l'aiuterebbe, no, non lo devi fare, non lo devi fare, no, no, non devi farlo, assolutamente, non devi fare vedere la bontà, sì, no, no, devi solamente far vedere la cattiveria, ed è questo ragazzi, la gente si alza la mattina, accende la televisione e vede negatività, vede notizie pessimistiche, accende la radio, vede pessimismo, va sul web, vede pessimismo, si sfogano sul web, ah, dai che bello, adesso mi faccio dieci profili, cinque profili finti, e vado a insultare l'ambrenedetto, vado a insultare quell'altro, oh, cretino, cioè, quando a me non me ne frega un cazzo, proprio, cioè, ma come, è questa, è questa la follia, è questa la follia, il segreto della felicità è eliminare le negatività, tutte le negatività, usufruire del tempo, il tempo, e soprattutto, proprio, io mi sono staccato completamente, ah, apro una parentesi, io, perché bisogna anche spiegarglielo nell'imbecille, io, mentre sono sul web, faccio enfasi perché sono sul web, ok, cioè, magari qualcuno pensa che, l'ambrenedetto, chissà che scene che sta facendo, cioè, capisci che si tratta di comunicazione, ragazzo, comunicazione, comunicazione, la gente non comunica più, la gente non si abbraccia più, la gente, addirittura siamo arrivati che la gente non abbraccia più neanche i propri genitori, o i propri familiari, la gente non sorride, quando va all'aeroporto, li vedi di tutti, quando sono partito, che sono andato l'ultima volta in Portogallo, eravamo io e i miei due amici, ridevamo, scherzavamo, sai, quando parti per andare a fare una zingarata, cioè, ridi, scherzi, la gente, era terrorista, a parte che erano tutti così, ti vedevano con gli occhi, gli veniva fuori le fiamme, perché ti vedevano felici, oddio, ma questi sono felici, ma stiamo scherzando, la gente è sempre in cattività, cerca sempre il dissing, lo scontro, la polemica, l'odio, la gente non è più abituata ad amare, a volere bene, essere rilassata, a me non me ne frega un cazzo, io non cerco ne sconti, io dico, siate più umani, state più felici, la gente non sorride più, la gente non è più abituata ad abbracciarsi, che poi è quello che vogliono loro, non è più abbracciata a sorridere, no, perché adesso, adesso devi stare burcato, quindi col burca, quindi a voglia, prendevano in giro quelli che andavano in giro così, col burca, e poi dopo si sono trovati i loro burcati, vabbè, allora, e quindi questo è uno delle cose, diciamo, peggiori che, che comunque ci sono, che la gente, la gente è scoppiata, cioè, guardate adesso, sono passato, questo qua era in giro, a fare una passeggiata, era in giro senza mascheriglia, ma ha visto arrivare? Oddio, 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 come ci siamo ridotti, la gente non è più abituata a comunicare, socializzare, la gente non è più abituata ad abbracciarsi, la gente non fa più nulla, non parliamo di scopare, perché, vabbè, siamo arrivati addirittura senza gli abbracci, siamo conciati veramente male, e penso che la ricerca della felicità è proprio questo, eliminare le negatività, usufruire del tempo, e questo è fondamentale, vivere come fosse l'ultimo giorno. Vi saluto, ragazzi, spero che applicate quello che vi ho voluto raccontare, un video un po' lungo stavolta, l'ho fatto un po' lungo, però spero di avervi trasmesso quello che io ho dentro. Ragazzi, abbandonate le negatività, ok? Viva la bontà, peace and love, iscrivetevi al canale.